3, 2, 1, GO! Buongiorno ragazzi e ragazzi! Oggi sono ritornata qui con il mio ultimo video! Questo video si tratta di un video molto molto bello perché in questo periodo di saldi sto facendo tanti bel acquisti e oggi è un video haul! Bellissimo, stupendo, wow! Allora ragazzi, voi dovete sapere che ho fatto 3 acquisti in un solo negozio e oggi vi porto il video. Perché vi porto questo video? Perché lo voglio fare, non è tutto. Perché voglio condividere le cose con voi. E seconda cosa, perché Sì, perché sì. Visto che questo negozio sta in una sola parte, in un solo centro commerciale, quando ci entro compro sempre qualcosa e questo è un haul molto conveniente perché prendi 3 e ne paghi 2, quindi molto molto bello. Allora, il negozio di cui stiamo parlando è Tally Whale! Aspettate, ora vi faccio vedere. Tally Whale! Molto bello, mi piace in fracco questo negozio. Trovo sempre qualcosa quando ci entro e è fenomenale. Tengo sempre il mio spazio perché è diviso in vari settori e il settore che mi piace di più è uno spazio più là che mi piace tanto e compro sempre qualcosa. Allora, lo diamo. Ora ho avuto un attimo il prezzo perché ho pagato poco perché una maglia, cioè il capo più conveniente non te lo facevano pagare. Ma non è che tipo... cioè se ti compravvi una cosa di 60 euro ma non c'è, 60 euro e poi te ne compravvi una di 40 e un'altra di 30. Quella di 30 non la pagavi, in pratica, tipo così. Io invece ho pagato 36 euro e 38 centesimi perché una maglia non l'ho pagata. Molto bella la vita. Allora, partiamo proprio... no, partiamo dai pantaloni. Ho comprato un paio di pantaloni perché i pantaloni non sono mai abbastanza e quindi sì. Questa è una 34 dove le vai tutti questi foglietti strambi. Una 34 molto bella. E va bene, inutile che ve la faccio vedere in tutto quanto. Vi faccio vedere semplicemente il colore. È un semplice un po' blu ginsato, no? E poi, vabbè, sotto non è niente un po' stilassato ma è semplicemente bello sistemato, ok? E le tasche, prova tasca perché quelli lati è... Bershela. Ah, va bene, perfetto. Avanti, le tasche sono finte. Wow! C'è solo dietro. Viva la vita, ma non fa niente, non è un problema, me lo metto dietro la tasca. Aspetta un attimo, ci voglio provare. Aspetta. Bello, calma. Entra? Ma speriamo che c'entra, almeno. Cioè, vabbè, per dirvi, troppo fuori, però vabbè, lo metterò nella tasca di giubili. Beh, questo, questo l'ho pagato 18 euro. Costava 25, no, 29, no, 25, e l'ho pagato in saldo 18 euro. Molto bella la vita. Poi, vi faccio vedere questa, che è molto, molto bella. Questa è il capo che non ho pagato, perché era il più conveniente, ovvero, l'ho pagato, una XS pagato 11 euro. Era scontata al 30%. Ed è questa, troppo bella, quel cappuccio. Devo allargare, perché non mi piace il cappuccio rispetto. E poi, questa è la maglia in questione, molto bella, con il suo scritto su YES! Molto, 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 wow! Bellissima, mi piace molto. Non ho mai detto questa parola, mi piace un sacco. Ed è bellissima. Bellissimo. Nera, con la scritta YES. Stupendo. Bye! Questa, che è stupenda. Cioè, questa è la mia vita. Allora, questa vi dico subito quanto costava. Era, è un XXS, cioè, XXXS, perché è casa grande, però è molto bella. Però, l'ho pagata 18,19 euro. E 19 centesimi. Vabbè, 18 euro. E quindi, molto, molto bella. Non ho mai avuto un capo di questo colore, ma mi piace un po'. Ma perché dico botto? Mi piace un sacco. Mi piace tantissimo. Ed è questa, tutta viola. Questo colore. E poi morbida, morbida. Bella morbida. E, ha dei dettagli. Qui, non so se si vedono, raga. Dei dettagli, qui, tutti argentati, quindi il bordino del, della maglia sotto. E poi, sopra, no, sopra niente. Le maniche niente. Mi ero confusa. E avevo visto, tipo, tutta un'altra cosa. Comunque, è bellissimo. L'ho messa al contrario, molto, molto intelligente. L'ho messa al contrario? Sì. È questa. Molto, 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 molto bella. Volevo vedere una cosa sulla felpa. Io ho preso, mi chiusemo tutto. Vabbè. E ci ritornerò, raga, perché viene delle cose troppo belle, vabbè. Allora, ok, quindi questa, questo colore meraviglioso, l'amo, è troppo bella. Caldissima, poi, morbidissima. Ok, quindi, tre, anzi, questi erano tutti i miei acquisti molto belli, molto yes, che ho comprato l'ultima giornata perché ci sono andate solo una volta in questo negozio. Cioè, solo una volta un giorno. Sono andata e ho comprato tre cose perché c'era l'offerta. Quindi, tre, due, one, go! Quindi ragazzi, questo era il video. Spero vi sia piaciuto. A me è piaciuto tantissimo. Iscrivetevi a Instagram marghejulia.com su Facebook marghejulia.com sul secondo canale magic.w su musical il chioccio la marghejulia.com e se volete le maglie, le cover, le tazze, cuscini e altre tantissime cose di tantissimi altri colori andate su www.marghejulia.com www.marghejulia.com e ricordatevi che www.marghejulia.com e facciamo finta che lei è Giulia come diciamo sempre quando Giulia non c'è è lei Giulia e insieme a voi formiamo la magic family cioè amore puro muah ciao ciao